Romina Junior si è recata in ospedale perché la madre ha dovuto subire un delicato intervento. Da diverso tempo la Power soffre di alcuni problemi di salute e a causa di questa circostanza ultimamente è sparita dalla TV. La figlia di Romina Albano ha messo su di sé tutto l'occorrente per evitare di portare nel nosocomio virus e batteri vari. Moda clinica 2022, così ha scritto nella didascalia la sua foto su Instagram. Romina Power, secondo quanto fa sapere la figlia, sarebbe stata operata per la seconda volta in due anni al ginocchio. A causa di questa condizione ha dovuto passare anche un periodo sulla sedia a rotelle. Adesso per Romina ci sarà la convalescenza e quindi la riabilitazione. Intanto la vita della figlia procede a gonfievele in quanto sta partecipando a oggi e un altro giorno il programma TV condotto da Serena Bordone, dove la figlia di Albano è impegnata come opinionista. Romina Junior, proprio grazie al programma, sembra aver trovato l'amore della sua vita, ovvero Emanuele Caserio. Grazie a tutti.